in Italia quando si parla della Madonna si parla di Maria non si parla della Catandola ehi Stramore mio faccio di alla finestra amore mio su una potente imparare a non faccio di alla finestra amore mio faccio di alla finestra amore mio molto pulito più avanti tenite la testa non ci ho finito un s alto un pittacino un peso un uc un peso non chiaramente un uc un uc che è plata adesso una minuta questo Lucia è già anche una kattителя Grazie a tutti.